molex formula oggi andremo a vedere come conservare correttamente le esche della serie frex realizzate con questo materiale conosciamo già quali sono i vantaggi di questa formula l'estrema elasticità la resistenza al taglio e la galleggiabilità per conservarle correttamente le esche realizzate con la molex formula non andranno messe a contatto con esche realizzate con la tradizionale gomma siliconica per questo consigliamo di mantenerle all'interno della loro confezione oppure di utilizzare le nostre scatole della serie elite per preservare al meglio le caratteristiche della molex formula e godere appieno dei suoi vantaggi ricordati di conservare le tue esche correttamente Grazie a tutti Grazie a tutti.